Ieri abbiamo fatto due manifestazioni ed è stato un successone, l'avrà letto, no? No, del successone della manifestazione l'avrà letto, ma non lo ha scorso il Corriere Online e non c'era come prima notizia, come seconda sarà stata, terza, quarta, ma neanche nella colonnina di destra dopo che sa che fine hanno fatto i protagonisti di Happy Days, Happy Days c'era, perché ho letto che c'era anche Zac Efron che non è più vegano, ma la nostra manifestazione non c'era.